Ancora una volta il tema della misericordia è risuonato in Piazza San Pietro, gremita di fedeli per l'Angelus. Prendendo spunto dal brano della donna adultera, il Papa ha ricordato che Dio mai, nemmeno di fronte al peccato più grave, vuole la morte del peccatore, piuttosto che egli si converta e viva, e che mai ci identifica con il male che abbiamo commesso, anzi desidera liberarci da quelle catene, ridonandoci una libertà che sappia però volgere al bene. Il Pontefice si è soffermato anche sull'atteggiamento degli scribi e dei farisei, che portano la donna, sorpresa in adulterio, davanti al Maestro, per tendergli un tranello e vedere se egli adempia la legge condannandola alla lapidazione. La risposta di Gesù che dice, chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei, ha sottolineato il Papa, disarma gli accusatori e li costringe ad andarsene. Lo stesso ha aggiunto, dovremmo fare noi, prendere consapevolezza di essere peccatori, lasciar cadere a terra le pietre che vorremmo scagliare contro gli altri e farci amare da Gesù, con quello stesso sguardo d'amore che restituisce dignità all'adultera, dandole la certezza di poter cambiare vita. Cari fratelli e sorelle, quella donna rappresenta tutti noi, cioè adulteri davanti a Dio, traditori della sua fedeltà. E la sua esperienza rappresenta la volontà di Dio per ognuno di noi, non la nostra condanna ma la nostra salvezza attraverso Gesù. Lui è la grazia che salva dal peccato e dalla morte. Al termine Papa Francesco ha voluto donare ai presenti il Vangelo di Luca, invitandoli a leggerlo ogni giorno. Così ha detto, la misericordia del Padre abiterà nel vostro cuore e potrete portarla a quanti incontrate.